Quante avventure fantastiche, franigliazioni acrobatiche, tanti avversari da battere, forza e volontà, arrivi a passo di carica, sui dati a nuvola magica, oh poi c'è da combattere. Ciao Sergio, sono qui con tua nipote che è fantastico, lo so che mi segui, ti ho visto, anzi lo sai anche tu perché ti ho risposto, ti mando un abbraccio fortissimo, grazie per il tuo affetto e spero di vederti presto, un abbraccio, ciao Sergio.